Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova webcast NKE, oggi dedicata al modulo Frame Generator di Autodesk Inventor. Prima di cominciare vi chiedo solo di darmi un feedback sulla qualità dell'audio e del video, quindi se vedete e sentite bene potete rispondermi tramite lo strumento di chat. Ok, perfetto, benissimo allora. Comincio con una brevissima descrizione e presentazione di NKE per chi ancora non ci conoscesse. Io sono Stefania Di Santo, sono Marketing Manager NKE per la parte manifatturiera e questa è la nostra mission, noi aiutiamo i nostri clienti a progettare e produrre le loro idee attraverso servizi ad alto valore e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Un po' di numeri su di noi, siamo ormai ad organico 115 persone, più di 115 persone, lavoriamo con oltre 14.000 clienti e come potete vedere dal grafico il nostro è un trend fortunatamente sempre in crescita. Ad oggi infatti abbiamo un fatturato di più di 55 milioni di euro. Queste sono le nostre sedi, abbiamo 17 sedi sparse un po' in tutto il territorio italiano, ma abbiamo anche 5 sedi in Spagna. I nostri partner, ovviamente Autodesk di cui siamo Platinum Partner, ma anche HP, Roboze e 3D Connection. Li vediamo un pochino più nel dettaglio. Qui abbiamo tutta la gamma dei software Autodesk che coprono tutti i principali market group esistenti. Quindi abbiamo software per l'architettura, software per l'industrial design e la manifattura, per il media entertainment, per il CAM e per il mondo delle infrastrutture. Le nostre specializzazioni, come vi dicevo NKE e Autodesk Platinum Partner. Che cosa vuol dire? Che per essere Platinum Partner ci vengono richiesti determinati requisiti e specifiche caratteristiche. Ogni settore che voi vedete elencato qui in questa slide ha in NKE un esperto dedicato sia per la parte tecnica che per la parte commerciale. Dal 2019 siamo anche ATC, quindi siamo un centro autorizzato di formazione Autodesk, per cui molti dei corsi che noi eroghiamo fanno parte di questo progetto e garantiscono al termine del corso il rilascio di un attestato ufficiale Autodesk riconosciuto a livello internazionale. Siamo Gold Partner HP, quindi affianchiamo a tutto quello che sono software Autodesk anche hardware ad alte prestazioni, quindi tutta la gamma di workstation HP che possono essere fisse e mobili, ma siamo anche presenti nel mondo della stampa 3D, quindi con le stampanti multi-jet fusion dell'HP per la produzione appunto di pezzi funzionali in 3D e per la stessa o per nello stesso mondo siamo anche rivenditori di stampanti 3D della Roboze che è una startup italiana che produce stampanti 3D a tecnologia però FDM, quindi a fusione di filo. Chiudo la carrellata dei partner con il e-mouse 3D della 3D Connection, che è appunto un'azienda che produce hardware anche qui ad alte prestazioni per i professionisti del design 3D e qui vedete tutta la gamma dei prodotti disponibili. I nostri servizi, noi offriamo servizi di helpdesk, quindi di assistenza sui software Autodesk sia online che on-site, eroghiamo corsi sia customizzati quindi personalizzati sulle vostre esigenze, online ovviamente adesso sempre di più, però anche insomma presso le vostre sedi o le nostre sedi nazionali. Abbiamo anche diversi progetti attivi, tantissimi come avete potuto vedere dalla prima slide, per quanto riguarda progetti ad alto valore, quindi consulenze per tutta la gestione del PDM, quindi la gestione del processo, del dato del progetto, ma anche dei processi aziendali e progetti BIM. Chiudo invitandovi a visitare la nostra piattaforma di learning che si chiama Learn for Work, qui vi ho riportato il link. Nella piattaforma potrete trovare tutta una serie di corsi sui software Autodesk di diversa durata. Una volta acquistati sono fruibili 24 ore su 24, basterà appunto fare l'utente ed accedere. Vi segnalo anche che abbiamo da poco aggiunto una nuova categoria di corsi in pillole, quindi corsi di tre ore con un costo anche decisamente accessibile. Io avrei finito, qui avete tutti i nostri riferimenti più il mio indirizzo email nel caso in cui abbiate ulteriori informazioni da chiedermi. Passo la parola a questo punto a Riccardo e vi ringrazio. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Facin, datemi magari un feedback se vedete il mio monitor, se mi sentite bene, così partiamo pure con la presentazione. Ok, perfetto, partiamo pure, visto che abbiamo più o meno un'oretta di tempo. Questa webcast ha come obiettivo darvi una sorta di panoramica, quindi una sorta di overview, un'infarinatura sul generatore di telaio, che è un ambiente di inventor che magari molti di voi già utilizzano, che magari qualcuno invece non conosce, che quindi magari ha il piacere e anche l'utilità di capire che cosa fa. Andiamo subito con le slide. Giusto due parole su di me prima di partire con questa presentazione. Mi chiamo Riccardo Facin, come avete intuito, lavoro in NK da circa due anni e mezzo, mi occupo del settore tecnico, più che altro improntato sulla parte di inventor e della parte CAD. Faccio corsi, sia on-site, ma ultimamente, visto il periodo, ci stiamo un po' più trasferendo verso i corsi online. Faccio assistenza, quindi magari qualcuno di voi già mi ha sentito con il servizio di assistenza che forniamo ai nostri clienti e mi occupo anche di tutta la parte, come diceva prima Stefania, della stampa 3D, quindi sia realizzazione di parte, ci sono anche dei software che vi aiutano ad ottimizzare il vostro processo di stampa e li seguo sempre io. In più c'è anche la parte di Generative Design, ma adesso non entriamo troppo nel dettaglio. Andiamo pure avanti con la nostra presentazione. Come è organizzata la giornata di oggi, la mattinata? Diciamo che partiremo con più o meno una mezz'oretta con delle slide dove vi propongo un po' degli argomenti del generatore di telaio, soffermandoci più che altro anche sulle novità che sono state introdotte con la nuova release di Inventor, la release 2021 e a seguire ci sarà un breve esercizio live, quindi una piccola dimostrazione di sostanzialmente metteremo in pratica quello che abbiamo visto in maniera teorica prima. L'ultimissima parte dell'intervento la lascio se ci sono eventuali domande e quindi poi le eventuali risposte. Vi dicevo, questo incontro di oggi non ha la pretesa di essere un corso sul generatore di telaio, anche perché come immaginate il tempo è quello che è, quindi c'è un'oretta di tempo, sicuramente saremmo molto tirati anche con gli argomenti. Tuttavia è più che altro l'idea di fornirvi una sorta di panoramica su quello che può fare il generatore di telaio, quindi anche per chi non l'ha mai utilizzato capire a che cosa può servire, darvi comunque un'idea di come si può crearsi sostanzialmente un telaio da zero, una minima messa in tavola con la distinta componente, ecco quindi un esercizio magari semplice e se vogliamo un pochettino anche completo, ma che di certo non ha la pretesa di voler fare un corso, quindi chiaramente poi se siete interessati a approfondire questi argomenti qua poi noi siamo disponibili eventualmente a fare dei corsi, ci sono anche dei corsi pre-registrati, quindi poi eventualmente ne possiamo parlare, quindi anche le domande ecco diciamo domande magari se possibile, magari puntuali, quindi non del tipo come funziona tutto questo argomento qua perché chiaramente il tempo è abbastanza limitato. Andiamo pure avanti, quindi entriamo nel vivo della nostra presentazione. Vi dicevo è uscita ormai la release 2021 di Inventor, release uscita già da qualche mese perché è uscita questa primavera, quindi magari già molti di voi la stanno già utilizzando. Tra le novità che ci sono in questa release, tra cui modellazione 3D, gestione degli assiemi, l'interfaccia grafica, quindi ad esempio l'interfaccia nera di Inventor, miglioramenti anche sulla messa in tavola con l'interoperabilità con Revit, quindi miglioramenti anche con il mondo architettonico, maggiore compatibilità degli elementi, oltre che i soliti miglioramenti riguardanti sia la stabilità che le prestazioni, diciamo che l'argomento che è stato un pochettino migliorato in maniera più sostanziale, comunque dove ci sono grossi e sensibili miglioramenti sicuramente è l'ambiente del generatore di telaio, quindi andiamo subito a vedere un pochettino che cos'è il generatore di telaio, detto anche frame generator in inglese, quindi sono assolutamente due termini sinonimi, o meglio la traduzione in italiano e in inglese dello stesso termine. Il generatore di telaio fa parte di una sezione di inventor detta design accelerator, la trovate nell'ambiente di assieme nella scheda progettazione, quindi oltre alla parte di generatore di telaio questo design accelerator vi permette anche di inserire ad esempio connessioni bullonati, quindi di inserire più elementi di centro contenuti come ad esempio la vite, il bullone, la rondella, il dado, tutti in un colpo solo, ci sono la parte dedicata agli alberi, la parte dedicata ai cuscinetti, quindi c'è un mondo, noi ci concentriamo sulla parte del telaio, vi aiuta quindi sia ad inserire i membri del telaio, sia a rifinirli, quindi eventualmente fare degli trattamenti di estremità, quindi ritagliarli, scontornarli, mettere ad esempio dei tappi, quindi ci sono tutte queste possibilità, e poi la gestione appunto dei vari membri. Andiamo a vedere dove potrebbe essere utilizzato il generatore di telaio in pratica, sicuramente per tutte quelle strutture di carpenteria, quindi strutture con travi, tubolari, saldate, imbullonate, quindi tutti questi elementi qua si prestano benissimo per quanto riguarda l'utilizzo del generatore di telaio, ma non solo, quindi anche vedete tutte le strutture che sono sostanzialmente a forma di telaio, quindi dove ho i miei vari elementi strutturali che possono essere, vi dicevo appunto travi, perché no tubolari, barre e via dicendo, quindi tutti questi elementi io posso tranquillamente concepirli con il generatore di telaio. Andiamo ora con un po' più di pratica, quindi andiamo a vedere come possiamo inserire i nostri membri del telaio, come funziona il generatore di telaio specialmente per chi magari non l'ha mai utilizzato. Il generatore di telaio si appoggia su delle geometrie diciamo già esistenti o meglio che voi avete già definito. La cosa diciamo più solita fare è sostanzialmente utilizzare dei solidi, quindi generalmente uno solo anche, una parte sostanzialmente, un IPT che voi andate a definire come vostro magari ingombro o come dimensione del vostro telaio, quindi semplicemente voi andate a modellarvi il vostro IPT come modellazione solida, come sapete fare, voi andrete poi a posizionare i vostri componenti di telaio sugli spigoli del vostro solido e questa è la situazione un po' più facile. Le alternative sono la possibilità di posizionare i vostri membri del telaio su delle linee dello schizzo, quindi in quel caso magari potete fare sia il solido che gli schizzi oppure solo gli schizzi, ad esempio se avete bisogno solo di un telaio bidimensionale. L'ultimissima alternativa è la possibilità addirittura di inserire dei membri del telaio definendo i due punti di estremità, quindi sostanzialmente avete tre possibilità, la possibilità di appoggiarvi su degli spigoli del solido, su delle linee dello schizzo che possono essere ovviamente linee dello schizzo 2D o 3D, stessa cosa ovviamente dei punti, potete prendere dei punti del vostro schizzo oppure crearvi dei punti di riferimento e andare a prendere l'estremità dei vostri punti, quindi avete diverse possibilità per creare il vostro scheletro di riferimento. Chiaramente come tutti gli ambienti di inventor c'è sempre un'associazione parametrica tra il vostro componente iniziale e il vostro componente finale, cosa vuol dire? Che tutti i parametri che avete inserito nel vostro scheletro, quindi ad esempio delle lunghezze, degli angoli e via dicendo così, mantengono un'associazione parametrica, attenzione, con poi il telaio che andrete a generare dopo, cosa vuol dire? Che se io vado a modificare la dimensione di questi parametri, la dimensione delle lunghezze ad esempio così, mi si aggiornerà in automatico il mio telaio, quindi questo assolutamente è super vantaggioso se siete magari ancora in fase di studio, quindi non sapete ancora bene quali sono le dimensioni del vostro telaio, potete iniziare a dare una dimensione diciamo generica e chiaramente poi potete andare eventualmente a definire le vostre dimensioni effettive, oppure se vi chiedono di fare una modifica in corso d'opera quando avete già modellato il vostro oggetto. Alla fine vi ricordo che lo scheletro non è nient'altro che una parte IPT, quindi niente di strano, ecco, quindi tutto normale. Altra cosa importante, questo scheletro poi, comunque lo vedremo nell'esercizietto live, sarà importante definirlo come parte di riferimento, perché comunque non vogliamo che questo scheletro entri dentro nella nostra distinta componenti e in più non venga conteggiato neanche nei pesi totali dell'assieme, quindi questa è una cosa importante ma che poi vedremo nell'esercizietto live. Benissimo, entriamo nel vero e proprio generatore di telaio, diciamo fino adesso è stata un pochettino la premessa, ecco, al vero comando. Vi diciamo, una volta che abbiamo definito quindi il nostro scheletro che sarà sempre il nostro punto di partenza, lo possiamo sia creare nel nostro assieme IAM come scheletro, come parte a sé stante, oppure lo posso creare dal nulla come parte IPT e posizionarmelo nel mio assieme, quindi assolutamente è equivalente. Passiamo alla scheda, quindi del generatore di telaio. Vi dicevo, dalla release 2021 quasi tutti di questi comandi, che sono i comandini che trovate nella sezione del generatore di telaio, sono passati al cosiddetti gruppi proprietà, quindi hanno lo stesso layout del comando di estrusione, ad esempio, che c'è dalla 2020 o dal foro della 2019, ecco, per capirsi. Possono quindi essere agganciati al browser, agganciati a fianco al browser, dall'altra parte, diciamo, avete possibilità di spostarlo e in più supportano le preimpostazioni. Poi andremo a vedere anche che cosa sono queste preimpostazioni. Quindi un layout un pochettino un po' più moderno, un po' più, anche se vogliamo, semplificato e intuitivo. Tutti questi comandi vi permettono di, se inserire ovviamente, a seconda del comando, inserire i vostri membri del telaio, modificarli, eventualmente poi riutilizzarli e vi diciamo, adesso andiamo a vedere un pochettino di che cosa stiamo parlando. Partiamo col comando principale che è inserisci telaio, quindi chiaramente il vostro, subito dopo aver creato lo scheletro, il primo comando che è andata ad utilizzare, ovvero posizionare i vostri membri del telaio. Come vi dicevo, rispetto agli anni scorsi la finestra di dialogo si è un po' rifatta in look. Abbiamo in alto subito la possibilità di recuperare una preimpostazione, se ce la siamo creata, oppure eventualmente crearcela in questo momento e riutilizzarla in un secondo momento. Vi ricordo che le preimpostazioni possono essere sia mantenute in locale, di modo che ognuno ha le sue, sia centralizzate, quindi messe sul server, di modo che tutto l'ufficio tecnico che punta a quelle preimpostazioni, utilizzi sempre le stesse preimpostazioni, quindi magari fa il lavoro una sola persona di creare le preimpostazioni e ne usufruisce tutto l'ufficio tecnico. Tra le varie sezioni anche abbiamo una parte relativa allo zoom, che poi andremo a vedere un pochettino più nel dettaglio, che è stata migliorata rispetto all'anno scorso, la geometria di inserimento, dove possiamo eventualmente poi scegliere se vogliamo le linee, se vogliamo le due estremità e via dicendo, quindi poi andiamo a vedere anche quella, la tipologia del telaio che vogliamo inserire, quindi ad esempio le famiglie, il materiale, l'aspetto e via dicendo, e ultima cosa l'orientamento, quindi eventualmente voi potete andare a ruotare i vostri componenti che avete inserito oppure posizionarli in maniera diversa, ma poi andremo a vedere bene come fare anche questo. Vi ricordo che oltre alle tipologie di famiglie che ci sono già di default in Inventor, perché comunque Inventor va a pescare da una libreria, da dei cataloghi dei vostri membri strutturali, potete anche inserire delle parti personalizzate, quindi dei profili personalizzati che voi sarete andati a pubblicare nella vostra libreria e che potete anche richiamare. Ok, andiamo a vedere quindi le categorie che vi dicevo, tra tutte queste, quindi tra VAT, doppiattici, angolari, barre piene, tubolari, tondi, quadrati, pieni e via dicendo, ci sono un sacco di voci, potete anche crearvi le vostre personalizzate, quindi se non vi soddisfano queste potete crearvene anche delle vostre. Personalizzazione delle proprietà, quindi questa schermata è anche, non dico personalizzabile, però potete andare a, cliccando quelle tre linette che avete in alto a destra, personalizzare ad esempio la modalità di selezione, quindi se volete selezionare solo gli spigoli, solo le linee di costruzione, oppure escludere le linee di costruzione dalla vostra selezione e via dicendo, quindi richiedere il nome del file al momento del salvataggio o potete anche defleggarlo e spegnerlo, quindi potete anche fare questo tipo di cose in quel menu contestuale. Manipolatori, i manipolatori vi aiutano al momento dell'inserimento del vostro membro del telaio, perché sostanzialmente vi definiscono qual è la posizione relativa rispetto a quello spigolo lì, perché potete stare centrati, potete stare tangenti, potete stare magari come bordo esterno, nell'angolino, ruotarlo, ecco avete queste frecce, sono abbastanza comode, belle grandi, potete eventualmente invertire l'estremità se il vostro oggetto è entrato al contrario, ma poi vi faccio vedere anche un altro piccolo trucco nella 2021, e c'è anche la possibilità di fare una rotazione, fate conto che se fate doppio clic sulla freccia della rotazione vi fa in automatico uno snap di 45 gradi, altrimenti se tenete premuto avete la rotazione sostanzialmente libera. zoom funzionali, quindi novità di quest'anno, sono stati aggiunti un'aggiunta se vogliamo anche abbastanza banale, perché è uno zoom niente di sconvolgente, però davvero davvero comodo, dopo lo vediamo nell'esercizio live, vi aiutano molto perché vi fanno gli zoom, specialmente il primo, uno zoom perpendicolare ai manipolatori, quindi andate in profondità, andate proprio a zoomare sui vostri manipolatori, scegliete il vostro punto di snap, con l'ultimo punto, con l'ultima voce diciamo, quella ripristina alla vista iniziale e ritornate allo zoom precedente, quindi con dei semplici clic voi andate, zoomate eventualmente dentro con il più verso i manipolatori, ma con il primissimo clic voi entrate perpendicolari alla vostra vista dei manipolatori. Inserisce e modifica i membri del telaio, quindi da quest'anno diciamo che c'è la possibilità eventualmente di aggiornare le categorie mentre sono in fase di inserimento del telaio, quindi eventualmente se in quel momento state aggiungendo delle categorie potete anche aggiornarlo in questo momento, ma secondo me la cosa più importante è la preview, quindi quando voi state per inserire un membro del telaio, se appoggiate semplicemente il cursore sulla vostra linea senza ancora fare il clic, spostandovi sopra e sotto, lui vi fa vedere eventualmente in che modo vi posiziona il vostro membro del telaio e quindi già risparmiare magari qualche secondo e capire che lo sto inserendo magari al contrario, prima di doverlo cliccare lo inserisco e poi andare a modificare la sua posizione, cosa che comunque posso fare sempre nel secondo momento, quindi già questo ci aiuta molto in fase di inserimento dei vostri componenti. estremità finali, novità della 2020 in realtà, quindi non della 2021, possibilità di inserire sostanzialmente dei tappi, dei tappi quindi se abbiamo a che fare con dei tubolari posso inserire appunto delle estremità finali, posso chiaramente personalizzare sia il posizionamento di questi tappi quindi se stanno dentro il nostro tubolare o stanno fuori, la loro dimensione quindi se c'è un certo offset, se c'è un certo inset, se devono entrare un pochettino più dentro la nostra parte, se devono essere un pochettino più grandi ci sono delle varie tipologie quindi con gli angoli ad esempio smussati, con gli angoli raccordati, con il spigolo vivo, abbiamo diverse diverse tipologie, posso salvarmi, vedete delle pre impostazioni perché hanno la schermatina nuova, diciamo che posso un po' personalizzarli, la cosa importante è per inserire questo tipo di elementi devo verificare che nel mio progetto sia accesa, si attiva la libreria custom content, altrimenti non potete inserirli, dopo comunque spendiamo giusto 20 secondi per vedere dove dove si va ad attivare questa questa spunta. Riutilizzare gli stessi elementi del telaio, c'è un comando apposito, si chiama riutilizza, abbastanza semplice e vi permette sostanzialmente di riciclare lo stesso membro del telaio in più posizioni. Chiaramente poi siete liberi anche di modificare il posizionamento, quindi non per forza deve mantenere lo stesso posizionamento, stesso orientamento rispetto al membro originale, però vengono trattati come stessi elementi, quindi se vado a modificare uno di questi, in questo caso quattro elementi, li sto modificando tutti e quattro, questo vale sia per ad esempio i trattamenti di estremità, sia ad esempio per il materiale, il colore, perché no, la famiglia del membro del telaio, quindi viaggiano diciamo tutti insieme, viceversa se avessi selezionato quattro spigoli con l'inserisci telaio, da lì in poi viaggiavano sostanzialmente ognuno per i fatti suoi, quindi in maniera indipendente, quindi attenzione a come andate a lavorare, chiaramente dipende ovviamente da quello che dovete fare. Andiamo avanti, il comando di angolo retto vi permette di scontornare, quindi tagliare a 45 gradi i vostri membri del telaio e rispetto agli altri anni, questo c'è già anche nella scorsa release, potete selezionare più componenti in una volta sola, quindi se siete fortunati o comunque se fa il caso vostro potete prenderli direttamente con una finestra grafica i vostri elementi, altrimenti li selezionate eventualmente uno per uno e a quel punto lui ve li fa lo scontornamento, diciamo in un colpo solo ve li fa tutti, quindi sicuramente un guadagno di tempo. Eventualmente potete anche impostare un certo offset, quindi un certo distanziamento tra i due membri, se mettete 0 ovviamente sono attaccati. Altro comando molto utilizzato nella scheda del generatore telaio, il comando di ritaglia e stendi che vi permette di allungare o eventualmente tagliare degli elementi di telaio contro un altro membro, quindi selezionate prima il membro che fa da taglio e l'altro elemento eventualmente o si allungherà o si accorcerà se è più lungo seguendo quel profilo. Da quest'anno è possibile selezionare anche profili curvi come vedete da questa immagine GIF. Cosa importante però se selezionate dei profili curvi comunque il taglio rimane lineare quindi attenzione ecco quindi questo poi è l'output che che avete quindi anche se la faccia è curva comunque vedete che il taglio adesso ve lo fa vedere il taglio sarà comunque dritto quindi attenzione quindi vedete qua il taglio è comunque dritto. In taglia adesso andiamo abbastanza veloci visto che siamo leggermente lunghi quindi potete ritagliare quindi non solo per profili dritti ma anche per dei profili ecco un pochettino più particolari quindi seguendo la forma del vostro elemento di telaio quindi ci sono i profili ai citi personalizzati voi potete andare a definire il vostro offset quindi con un profilo magari un pochettino un po più semplice dove tenete solo una distanza di offset oppure ci sono anche i profili un pochettino più personalizzabili ecco dove potete andare inserire molteplici valori a questo dipende ovviamente dalle vostre necessità pubblicazione di un profilo personalizzato vi dicevo inventor ha una una sua libreria voi chiaramente potete aggiungere che vi create una vostra libreria personalizzata sia dei file che create voi da zero quindi vi mettete fate il profilo come un ipt poi lo estrudete o perché no magari il vostro fornitore vi ha dato il dxf il dvg del del profilo lo portate dentro in inventor stessa cosa se fosse uno step vi create la vostra parte a quel punto poi la dovete pubblicare nel nel centro contenuti e a quel punto ce l'avete disponibile per inserire il vostro profilo personalizzato ultime slide prima di un breve video e poi passiamo alla parte live da quest'anno è possibile personalizzare i valori di denominazione dei file in maniera semplice e intuitiva dove trovo questa scheda la trovo nelle opzioni applicazione sotto scheda file valori default denominazione file magari dopo sicuramente la vediamo con l'esercizio live semplicemente qui io vado a definire qual è il nome di default che prendono i miei componenti del telaio quando li vado a realizzare per la prima volta quindi posso sia dargli un campo fisso quindi scrivere quello che voglio e poi magari appoggiarmi ad esempio al nome dell'assieme nome del file nome del progetto ci sono anche altre voci che vi prendono la data e via dicendo quindi potete andare ecco a personalizzarvi ecco il nome di default che viene dato al vostro telaio benissimo andiamo a vedere quindi questo breve video di di autos che più che altro sulle sulle novità della 2021 con il generatore di telaio ecco che vi dicevo che potete personalizzarvi sia il nome visualizzato che sono le voci che avete a sinistra che il nome del file che sono le voci che vedete a destra quindi c'è anche la spunta per mantenerle è già collegate tra di loro e quindi potete andare a prendere tutte le varie categorie che che vi interessano in questo caso hanno fatto uno schizzo 3d e posso andare ad inserire con l'inserisci telaio i miei membri lui si è creato delle pre impostazioni cosa che poi vi farò vedere anche dopo nella nell'esercizietto una volta scelta quindi la mia famiglia e la mia tipologia di membro vado a posizionare il mio il mio componente lo vado a posizionare sfruttando i manipolatori quindi vedete che ha sfruttato lo zoom novità della della 2021 è entrato a vedere esattamente come era fatto quel profilo dall'alto e poi ha dato l'ok qua abbiamo visto come molto velocemente si può fare un taglio su una superficie curva quindi vi ricordo sempre il profilo però resta dritto e qua un intaglio con i profili personalizzati a ic e t quindi anche questa è una cosa che che potete fare comando di riutilizza quindi vedete creo un membro lo riutilizzo più volte dove non mi serve lo vado a togliere dove è già posizionato ma magari in un orientamento non corretto vado a modificare il suo posizionamento quindi il membro rimane sempre lo stesso quindi se ci dovessi fare dei trattamenti di estremità vi ricordo li faccio per tutti quelli riutilizzati però sicuramente posso cambiare eventualmente l'orientamento solo a un componente ok con questo il video si conclude e possiamo passare all'esercizietto live quindi più o meno siamo nei tempi perché siamo abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa quindi ok usciamo da qua vi cambio il monitor datemi solo un istante perfetto adesso dovreste vedere il monitor con con su inventor quindi partiamo subito veloci quindi visto che il tempo è abbastanza è abbastanza tirato dicevamo mentre vi ho fatto vedere le slide dovete attivare la libreria custom content per avere la possibilità di inserire dei tappi quindi delle estremità finali quindi vediamolo subito progetti selezionate il vostro file di progetto che state utilizzando qui sotto configura librerie centro contenuti dovete verificare che ci sia questa libreria che si chiama custom content ed è accesa quindi se se non è accesa l'accendete se sei già accesa benissimo non toccate niente che va benissimo così poi altra cosa che prima di partire vi faccio vedere vi dicevo dove vado a cambiare i nomi di default dei miei membri del telaio opzioni applicazione quindi faccio file opzioni la scheda che mi interessa quella che si chiama ancora file vado qui sotto dove c'è valori di default di denominazione file e a questo punto io posso andare a personalizzarmi queste voci tipo intanto dirgli che voglio lo stesso nome del file come nome visualizzato e poi magari qua semplice semplice invece che fremmi ci voglio scrivere in italiano telaio ok posso eventualmente andare a pigliarmi il nome dell'assieme dicendo quindi abbiamo diverse diverse possibilità ok quindi una volta che l'abbiamo l'abbiamo fatto gli diamo ovviamente l'ok applica chiudi e adesso lui ha mantenuto queste modifiche partiamo con con l'esercizio quindi vi dicevo partiamo con l'assieme assieme standard andremo a creare il nostro scheletro direttamente dentro il nostro assieme quindi andiamo pure a fare sotto componente crea scheletro eventualmente avrei potuto anche crearmi una parte normale ipte niente di strano però dicendo scheletro di default viene già messo come nascosto noi più gli diremo che lo vogliamo addirittura come riferimento quindi poi andremo a modificare anche questo gli diamo il nome allo scheletro e lo chiamiamo scheletro webcast sappiamo che è il nostro gli diamo un ok entriamo nella parte di modellazione parte quindi qua siamo in un ambiente sicuramente a voi familiare quindi facciamo semplicemente un rettangolo andiamo a fare un esercizio banale niente di complicato rettangolo vado a mettere questa quota questa quota che chiamo lato che mi interesserà per dopo e gli diamo 600 benissimo poi tiriamo un attimo tiriamo un attimo su anche questa linea prendiamo da questo punto a questo e gli diciamo 2090 ok andiamo adesso semplicemente a fare una linea da qui a qui a qui andiamo a tagliare nulla ora eliminiamo un attimo questa quota la mettiamo dopo andiamo a tagliare questi elementi vi dicevo mettiamo le quote come sempre meglio sempre anzi assolutamente lavorate sempre con gli schizzi completamente vincolati eh mi raccomando quindi qua mettiamo una quota di 650 qui mettiamo un angolo di 60 qua possiamo mettere una quota ma in realtà volevo dirgli che queste due linee sono perpendicolari tra di loro quindi utilizzo un vincolo e le metto perpendicolari benissimo completamente vincolato concludo il mio schizzo insomma fuori facciamo semplicemente un'estrusione un'estrusione che in realtà io voglio simmetrica e che voglio del mio valore lato quindi vado semplicemente qua a dire elenco parametri lato in modo che la quota è identica cambiandone una si cambia anche l'altra ok quindi tutto per ora abbastanza semplice niente di più che una modellazione solida quindi in questo caso avrei a disposizione tutti gli spigoli di questo solido per realizzare il mio telaio però ad esempio se volessi fare una barra lunga così non riuscirei a farla perché comunque non c'è lo spigolo in questa posizione idem se volessi fare una barra che taglia il componente in questo modo perché qui non ho nessun punto qui non c'è nessuno spigolo non riesco a farla quindi ho diverse possibilità posso splittare questo solido quindi tagliarlo crearmi degli schizzi crearmi dei punti di riferimento quindi ve le faccio vedere un po' tutte e tre tanto è giusto per darvi un'idea che ci sono queste possibilità quindi come prima cosa andiamo a tagliare il nostro solido lungo questa questa faccia quindi facciamo semplicemente un piano che è parallelo a questo piano e passa per questo punto quindi in questo modo noi abbiamo creato un piano andiamo a dividere il nostro solido possiamo dividere anche semplicemente le sue facce usiamo questo piano come linea di divisione gli diciamo pure tutte le facce e andiamo veloci spegniamo subito la visibilità di questo piano che non ci interessa più altra cosa che possiamo fare andare a definire uno schizzo per fare una linea lunga che va da qui fino qui semplicemente vado su il mio schizzo mi metto su questa faccia proietto ad esempio sia questa linea che questo punto e faccio semplicemente una linea che parte da qui arriva qui viene tagliata e poi mettiamo magari questa linea come costruzione perché non mi interessa quindi semplicemente una linea concludo il mio schizzo e qui mi sono fatto il mio schizzo 2D da quest'altra parte potrei semplicemente proiettare lo stesso schizzo da questa parte qua in realtà vi faccio vedere come eventualmente inserire un punto perché poi vogliamo inserire un nostro membro di telaio tra due punti quindi in questo caso vado a prendere un punto che è comune a questo spigolo e a quest'altro quindi in questo caso mi dà questa intersezione benissimo per quanto riguarda la modellazione di questo nostro scheletro abbiamo finito quindi siamo stati abbastanza rapidi torniamo quindi adesso siamo nell'ambiente di assieme prima di inserire qualsiasi cosa del generatore di telaio l'inventor vi chiede di fare un salvataggio quindi andiamo a fare un bel salva andiamo a salvarlo e lo chiamiamo telaio webcast benissimo salviamo sì ok benissimo una volta che l'abbiamo salvato siamo liberi di passare alla scheda progettazione inserisci telaio a questo punto vedete che mi si apre questa scheda proprietà che io posso o sganciare e tenere libera di mettere di capitarmi ovunque nel monitor cosa che a me tendenzialmente non piace posso agganciarla in aggiunta al mio modello ma la cosa che a me piace di più è metterla qui quindi alternativa al mio browser tenete conto che eventualmente poi potete passare da uno all'altro e proprietà ce l'avete acceso solo quando avete attivo qualche comando di gruppo proprietà a questo punto vi dicevo dobbiamo selezionare i nostri spigoli per il posizionamento dei nostri componenti magari come primissima cosa possiamo scegliere che membro del telaio utilizzare quindi andare a prendere eventualmente non lo so qua abbiamo gli angolari qua abbiamo le C travia doppia T ok quindi poi eventualmente avete diverse famiglie a seconda di quello che andate a selezionare ci sono le normative ok quindi c'è un mondo ok le varie dimensioni chiaramente se vi siete creati delle vostre preimpostazioni cosa che io mi sono portato avanti e ho già fatto potete andarle a richiamare quindi qual è il vantaggio di aversi fatto delle preimpostazioni mi creo delle preimpostazioni e ho già questi valori precompilati quindi già non devo andare a vedere che valori sono non sbaglio e guadagno tempo dopo vi faccio vedere come crearne una questo vale sia per ad esempio l'inseriscitelaio ma anche per l'estremità finale quindi scelta la mia tipologia vado a selezionare i miei input quindi ad esempio questa linea benissimo vedete che quando vado a selezionare la linea inventor me la posiziona appoggiandosi a uno dei suoi nove snap e magari è quello che non mi va bene perché io volevo metterlo all'interno di questo quindi come faccio a modificare questo posizionamento sfrutto i comandini questi qua di zoom quindi appunto queste novità della 2021 quindi vado faccio il primo click su questo e lo mi mette già ho bello frontale ai miei manipolatori gli dico guarda io voglio che ti agganci a questo punto una volta che ho finito torno alla mia vista iniziale e ho fatto ok quindi posso ovviamente selezionare più membri in un colpo solo vedete che mi fa vedere la preview prima di cliccare sono già tutti posizionati in maniera corretta perfetto quindi non devo andare a modificare nessun altro valore eventualmente in alternativa ai manipolatori posso anche andare a scegliere io i valori di rotazione eventualmente o di offset e ci do un ok lui mi dice guarda ti sto creando questi file vedete che adesso scrive telaio invece che frame perché sono andato a modificare quella voce e lui me li inserisce quindi iniziano a popolarsi i miei elementi qui nel browser quindi avete visto che ho utilizzato come geometria di supporto degli spigoli del mio solido posso utilizzare anche degli schizzi come ad esempio questo qui verde inserisci telaio ad esempio non voglio selezionare gli spigoli vado qui nel menu delle impostazioni avanzate non voglio selezionare gli spigoli lo defleggo vedete che adesso lo spigolo non è più selezionabile posso selezionare solo questo quindi sicuramente non sbaglio ok vado prendo questo vedete che a seconda di dove mi metto con la preview mi dà una posizione diversa ok quindi anche qua magari risparmio quel secondo poi che mi magari costringeva a modificare il posizionamento con i manipolatori ok quindi in questo caso ho selezionato questo spigolo e ci do l'ok ok quindi qua ho sfruttato uno schizzo adesso andiamo ad inserire lo stesso membro da quest'altra parte dove però non ho lo schizzo ma ho fatto un puntino vado, abilito la posizione tramite due punti quindi devo prima cliccarlo a questo punto vado a selezionare il mio primo punto e il mio secondo punto ok in questo caso la posizione non va bene vado subito a ridefinirla zoom vado a prendere questo punto come snap e zoom indietro mi va bene e gli faccio un'applica in modo che il comando rimane inserito in questo modo posso anche andare a inserire questo membro del telaio in maniera intera perché se io non accendo più i due punti e riattivo la possibilità di selezionare gli spigoli vedete che in realtà avendo splittato questo solido non ho più lo spigolo intero quindi o prendo la parte sopra o prendo la parte sotto e se volessi il membro del telaio tutto unico benissimo gli dico specifica tra due punti prendo il punto sopra e il punto sotto quindi quando in realtà i punti sono i vertici del vostro solido non c'è bisogno di andarli a specificare come geometrie di riferimento ok anche qui vado con i miei manipolatori vedete come sono comodi vado dentro zoom prendo questo punto zoom fuori mi va bene gli do il mio applica faccio la stessa cosa dietro di qua punto 1 punto 2 vediamo se me l'ha posizionato corretto no vado io gli dico punta questo punto e così via ok quindi vado ad inserire tutti i miei membri del telaio quindi tolgo la selezione dei punti voglio metterne tutti e quattro assieme vado 1 gli definisco già subito la posizione così poi in teoria dovrebbe tenerla anche per tutti gli altri membri che faccio in selezione multipla 2 3 e 4 e vedete che sono già tutti in maniera furba messi in posizione corretta ci do un altro ok ovviamente mi fa vedere tutti i membri che vengono creati posizioniamo anche qui andiamo sempre a definire il nostro posizionamento relativo e qui applica mettiamone qua solo uno così faccio vedere poi il comando di riutilizza per riutilizzarlo anche sugli altri tre lati lo mettiamo qua non mi piace il posizionamento come al solito sfrutto gli zoom e gli dico di mettersi appena qui sotto ok quindi abbiamo creato i nostri membri del telaio ce li troviamo qui dentro non mi non voglio più vedere per adesso questo solido che mi dà un po' fastidio quindi allora innanzitutto ci siamo dimenticati di dirgli che era un riferimento e lo facciamo subito tasto destro struttura distinta componenti guarda invece che essere nascosto come tuo default mettiti come riferimento così non mi appari più neanche nei pesi e in più gli diciamo guarda spegniti un attimo la visibilità che ci dai fastidio quindi questo è il nostro telaio per come l'abbiamo inserito adesso andiamo a rifinire ora tutte le varie estremità quindi come prima cosa vi farei vedere il comandino di angolo retto 1 2 3 e 4 quindi selezione multipla se siamo fortunati io dicevo riesco a fare una finestra grafica 4 membri del telaio non tocchiamo niente qua quindi non voglio nessun offset e via dicendo così vi do l'ok subito me li ha scontornati altro comando molto utilizzato ritaglia e stendi ritaglia e stendi prima definite lo strumento di taglio quindi la faccia che va a tagliare prendete questa faccia e poi quello blu è la vostra nuova selezione quindi gli elementi che vanno a essere tagliati ok in questo caso riesco a farli tutti e quattro insieme perché il piano ovviamente poi si allunga posso dargli un'applica così poi riesco a farlo anche in altre posizioni vedete comunque che viene un lavoro fatto bene ok quindi vado anche qua stessa cosa gli dico questa è la mia superficie di taglio tagliare 1 e 2 chiaramente questi sono in ritaglia possono anche essere fatti in allungamento quindi se eventualmente il vostro membro del telaio si fermasse qua lui ve lo allunga fino a quella superficie ok stessa cosa facciamo qui questo è il nostro membro di taglio e andiamo a tagliare questo applica taglio su questo applica su questa faccia andiamo a tagliare 1 e 2 3 4 5 e 6 quindi vedete che è molto veloce come comando ok come ultima cosa qua volendo potrei sempre fare il comando di ritaglia e stendi ho anche la possibilità di fare giunzione ad angolo dove vengono tagliati entrambi eventualmente gli gli elementi ok semplicemente voi prima definite qual è quello che fa poi il lato lungo quindi il vostro giallo definite poi quali sono i vostri blu ci date un'applica e vedete che in questo caso viene allungato cioè quello giallo rimane così perché non c'era niente da tagliare vengono accorciati questi qua corti stessa cosa facciamo da questo lato 1 e 2 ok quindi diciamo che con pochi clic siamo riusciti ad andare a rifinire bene il nostro il nostro oggetto l'ho messo in questo modo qua di modo che possiamo inserire i tappi ok quindi andiamo ad inserirli inserisce estremità finale andiamo qua dentro ci prendiamo questa superficie quest'altra quindi ovviamente li potete mettere in maniera multipla andiamo qua dentro zoomiamo un pochettino per vedere che tipologia mi sta mettendo quindi questa è la selezione dove lo voglio il mio tappo lo voglio fuori lo voglio all'interno voglio che profilo con gli angoli raccordati con gli angoli smussati con gli angoli acuti ok diciamo con gli angoli gli angoli smussati posso dirgli che lo voglio con uno smusso di che valore o 10 ok lo spessore del mio elemento anche lui magari gli dico 8 vedete che diventa un pelo più spesso che distanza di offset voglio dargli quindi se lo voglio proprio preciso se gli voglio stare a 2 mm dalle pareti ok diciamogli che stiamo pure a 0 ok materiale aspetto diciamo che lo vogliamo fare blu se c'è qua va bene anche bianco che si vede bene sul nero no magari lo facciamo rosso rosso così bello visibile possiamo eventualmente ruotarlo dargli una rotazione oppure dargli un insert quindi se lo vogliamo inserire ancora un po' più in dentro se gli diamo 5 ve lo mette un pelo più incavato se no ovviamente mette 0 e sta a contatto ovviamente se fosse stato all'esterno potete scegliere di metterlo un pelo più staccato questo vale ovviamente queste modifiche le fate per tutti e 4 ora vi siete salvati avete fatto queste modifiche magari in un futuro volete rimettere un tappo esattamente di queste tipologie qua quindi cosa conviene fare salvarsi una preimpostazione come faccio a salvare queste preimpostazioni quindi queste voci precompilate più faccio un più qua lui me lo chiama tappi io lo chiamo tappo rosso webcast benissimo quindi cosa succede io lo salvo con la spunta così vengono salvate queste in un futuro posso richiamarle quindi io faccio così ok e mi salva questi tappi messi qua belli belli in rosso ok quindi stessa cosa ovviamente vale potete farlo ovviamente per i membri del telaio ok quindi io ve l'ho fatto col tappo ma chiaramente col più gli date il nome e lo rinominate ultimo comandino prima di vedere giusto al volo la distinta componenti la messa in tavola rapidissima visto che siamo siamo lunghissimi con i tempi riutilizza vi dicevo riutilizza vado a prendere l'elemento che voglio riciclare ovviamente annulliamo tutto cosa manca manca lo scheletro ritiriamolo su quindi tasto destro visibilità lo rimettiamo visibile in modo che poi posso selezionare questi spigoli chiaramente se no non li riuscivo a vedere vi dicevo riutilizza selezioniamo questo membro del telaio e andiamo a dirgli che ci vogliamo appoggiare su questo spigolo quest'altro e quest'altro ancora ok a questo punto sì il nostro scheletro lo rispegniamo per sempre vedete che sono già contornati ok e in più sul sulla nostra sul nostro browser appaiono ecco tutti raggruppati in un'unica voce quindi avete anche il vantaggio di avere diciamo questo più più compatto chiaramente se voi fate una modifica su uno di questi la modifica vi dicevo si ripercuote su tutti gli altri esempio selezioniamo uno solo di questi membri vedete che non me li fa selezionare questi qua perché sono in modalità selezione priorità componente selezioniamo come priorità la parte prendo questo tasto destro modifica con generatore telaio quindi questo è indipendentemente da quale membro vado a scegliere diciamo che questo qua gli voglio per semplicità cambiare l'aspetto quindi facciamo un aspetto bello visibile tipo blu blu metallizzato così ci diamo l'ok vabbè pensavo meglio ecco vabbè comunque la logica è che cambiano tutti e quattro ok quindi assolutamente non viaggiano tutti insieme cosa che ad esempio questi quattro qua sotto che ho inserito con l'inserisci telaio non succede quindi se io faccio tasto destro modifica con generatore telaio stavolta mettiamogli un colore un pochettino un pochettino più bello tipo anodizzato no nero non si vede bianco ok quindi questo che è fatto bianco solo lui è bianco gli altri anche se sono membri uguali come dimensioni tra di loro non essendo fatto col comando riutilizza ognuno si fa i fatti suoi ok quindi rimettiamolo colorato normale salviamo il nostro assieme salviamo tutti ok benissimo vediamo vediamo giusto al volo la distinta componenti che esce fuori da questo da questo assieme assembla distinta componenti abilitiamo la solo party eliminiamo magari personalizziamo le colonne ci togliamo la revisione ci portiamo dentro magari la quantità degli elementi ok possiamo portarci dentro eventualmente il materiale e via dicendo chiudiamo vedete qua praticamente ho come quantità magari quantità elementi lo mettiamo qua ho tutti i vari membri che sono stati raggruppati già a seconda della loro dimensione quindi in questo caso ne ho 6 di quantità lunghezza 400 totale 2004 e via dicendo per tutti gli altri lui mi li raggruppa sia che li ho fatti con il riutilizzo che li ho fatti con il generatore normale quindi li inserisci telaio se voglio raggruppare solo quelli che ho fatto con il riutilizzo qui in alto e tolgo questa spunta ci do l'ok adesso anche gli stessi elementi che sono uguali tipo questo e quest'altro appaiono su righe diverse scusate c'avevo lo shift inserito vi dicevo ad esempio questo e quest'altro appaiono su righe diverse anche se sono lo stesso ok quindi ritorniamo a vedere come era prima mentre invece giusto al volo questi che li ho fatti con il riutilizza comunque restano quattro ritorniamo qui ok quindi chiaramente poi questa parte qua che non è che vi dice quanto sono lunghi la quantità unità è ciascuno ok benissimo chiudiamo eventualmente possiamo già esportarci questo in excel oppure possiamo fare così tasto destro ci creiamo anzi facciamo prima come al solito bella salvata ok tasto destro crea vista del disegno siamo quasi arrivati in fondo promesso cartiglio corso online crea benissimo quindi chiaramente adesso io posso farmi la mia messa in tavola del mio membro del telaio cioè di tutto il mio telaio scelgo ad esempio questa vista 3d posso ovviamente farla sia così che farmi una vista base quindi assolutamente non la mi vieta di fare questo tipo di operazioni poi metterci le quote e via dicendo diamoci l'ok forse era meglio fare il contrario tipo questa non ombreggiata e questa ombreggiata ok e ora mettiamo il nostro elenco party quindi andiamo sotto annotazione elenco party selezioniamo la nostra vista quindi ha già preso il nostro file di riferimento gli diciamo solo party ok vado qua me l'aggancio perfetto quindi ho già il mio elenco party fatto chiaramente doppio clic lo vado a modificare quindi ad esempio voglio portarmi dentro quantità di elementi me lo porto dentro quantità unità me lo porto dentro li voglio portare su sposta su sposta su magari quantità lo spostiamo un attimo giù numero dell'elemento numero parte se lo voglio vedere scritto se no posso anche eventualmente eliminarlo descrizione e via dicendo un altro magari che vi posso porto dentro magari lo stock number che dopo vi faccio vedere che cos'è ok quindi lui vi fa questo chiaramente voi potete andare a editare le vostre le vostre voci quindi ad esempio quantità unità posso dirgli formatta colonne e dirgli che guarda non voglio vedere i decimali e non me li fa vedere ok qua mi ha forzato un millimetro forse era meglio lasciarlo perdere un attimo questo quindi formatta colonne poi eventualmente lo rifacciamo senza questo quindi potete modificare le vostre cose potete modificare chiaramente questo è meglio farlo nell'editor stili così ce l'avete poi già pronto fate l'applica ok quindi in questo caso avete già fatta la vostra diciamo distinta dell'elenco parti con l'unità sei elementi eventualmente poi potete anche pallinare quindi non con magari una pallinatura automatica ok quindi poi eventualmente andate a personalizzarvi la pallinatura ci date l'ok poi questi componenti questi numeri li mettete un po' come volete voi e non vi piace questo lo potete anche eliminare volevo far vedere giusto in chiusura la possibilità di creare comunque anche una distinta componenti tra regolette globale quindi che vi fa vedere essendo questi tutte lo stesso famiglia del telaio quanto ne devo ordinare magari di lunghezza totale ok quindi quant'è la quantità totale facciamoci pure un altro elenco parti sfruttiamo sempre questo chiaramente se voi vi siete fatti il vostro stile poi già ve lo richiamo al volo e non dovete fare queste operazioni tutte le volte doppio clic voi ad esempio andate qua dentro come impostazioni gruppo raggruppate tutti quelli che hanno lo stesso stock number quindi vedete qua sotto stock number che è 100% per 6 che è la dimensione di quel tubolare ok e gli dico anche guarda non voglio visualizzare i partecipanti del gruppo benissimo quindi mi farà vedere solo un gruppo unico con stock number benissimo tac quindi quantità c'ho il totale numero parte eventualmente posso o scriverglielo io cosa che non è il massimo se no gli dico qua posso innanzitutto togliere magari questa colonna e far vedere solo lo stock number se no addirittura posso dirgli guarda formata colonna e dirgli qua gli scrivo formato e invece che prendere il numero parte guarda vai a prendere ad esempio quello che io chiamo stock number primo valore va benissimo ok e lui mi prende il formato questo qua benissimo quindi faccio un ok e mi son fatto anche la mia eh di sì magari non la chiamo elenco parti quindi cosa faccio vado qua layout tabella gli dico guarda questa io la chiamo eh totale ok come voglio io ok quindi applica fatto e quindi ho sia eh l'elenco parti poi vabbè chiaramente poi magari l'andrei a rifinire un po' meglio però vabbè questo è fuori un po' dai tempi così e questo diciamo concludo l'esercizietto eh che vi volevo proporre quindi torniamo pure eh a noi e niente vi dicevo abbiamo finito con con le slide con l'esercizietto live quindi giusto per farvi vedere due cose sul generatore di telaio e vi dicevo appunto se avete domande fatemele pure ehm più che altro ecco se fate conto che ehm diciamo questo non era non era l'obiettivo di farvi un corso con questa con questa lezione qua quindi se avete eh magari voglia di eh approfondirne un po' di più ecco sappiate che facciamo sia corsi on site corsi online eh specialmente in questo periodo ecco che è un po' un po' un'incognita eh abbiamo anche come vi diceva Stefania dei corsi già registrati sulla nostra piattaforma di e-learning quindi ci sono un po' anche per per tutte le tasche non solo ovviamente sul generatore di telaio abbiamo diversi eh diversi argomenti e niente quindi ecco vedo che c'è già una una domanda eh mi chiedono se i telai fatti con le versioni precedenti possono essere modificati con la versione 2021 assolutamente sì sono come dei file eh tranquillamente eh dei file normali quindi dei file IPT o EAM quindi eh assolutamente non c'è problema se passate da una release più vecchia e utilizzate poi eh Inventor 2021 eh riuscite sicuramente a maneggiarli chiaramente non vale il contrario quindi ehm se avete fatto i file con la 2021 e li aprite magari con la 2018 2019 e via dicendo non eh non ve li fa non ve li fa aprire per poter raggiungere piatti di vario spessore devo inserirli dal centro contenuti oppure c'è una funzione all'interno del frame generator eh per piatti di vario spessore in che senso chiaramente poi una volta che siete nell'ambiente di frame generator avete poi a disposizione non ve l'ho fatto vedere ma poi tutte le altre possibilità quindi chiaramente potete posizionare da centro contenuti tranquillamente potete fare dei fori eventualmente su questi membri ok quindi dei fori che stanno o solo nell'assieme o doppio clic entrate direttamente nell'ipt eh di queste parti qua e quindi poi eventualmente le andate a modificare con dei fori quindi solo forature e anche estrusione in negativo certo tutte lavorazioni eh tutte le lavorazioni di modifica di assieme questo vale in generale eh le potete fare nell'ambiente di assieme solo lavorazioni di rimozione materiale e rimangono solo nell'assieme cosa vuol dire che se aprite per caso qualche file come ipt eh da solo non trovate quella lavorazione quindi è una lavorazione che va fatta in eh in ambiente di assieme ed è sì solo solo in in negativo no non puoi ecco Stefano non puoi creare materiale nell'ambiente di assieme quindi esatto è meglio inserirli dal centro contenuti se li hai già creati oppure se hai delle parti normali puoi tranquillamente fare un posiziona quindi tranquillamente o volt esatto quindi c'hai delle parti standard tue vai pure col centro contenuti se no qualsiasi altra parte va posizionata ok ok sono un sacco di domande vediamo se iniziamo a smarcare quelle già fatte ok allora si possono gestire assieme imbullonati aggiungendo piastre saldate ai singoli elementi e gestendo poi le tavole dei sotto insiemi saldati ok aspetta che la rileggo un attimino così intanto eliminiamo quelle già già risolte allora si possono gestire assieme imbullonati aggiungendo piastre saldate sì allora volendo c'è per dire tu da qua puoi aggiungerti un nuovo componente come dicevo un po' prima quindi questo funziona come se vuoi un tuo sotto assieme chiaramente poi fa parte di un di un membro nascosto quindi non vedrai mai il telaio 1 6 0 quello che è perché appunto essendo nascosto comunque non lo vedrai mai in distinta componenti però come file in sé nel senso poi volendo farci una prive di questo hai solo il telaio ed eventualmente metti in tavola solo questo in questo caso coincidono i due i due assiemi perché non ci ho posizionato nient'altro ecco tutto qua quindi sicuramente potresti fare una cosa di questo tipo qua e eventualmente se vuoi mettere in tavola solo questo eventualmente però alla fine sono degli assiemi niente di strano ecco questi del generatore di telaio niente di complicato per una verità di elementi finiti come viene visto un modello frame dal software allora ecco per questa una domanda un pochettino più più tecnica allora fate conto che una volta che avete fatto poi il vostro telaio c'è questo questa possibilità di avviare già un'analisi a elementi finiti di questi componenti qua quindi senza andare all'esterno utilizzando altri software potete utilizzare direttamente il il modulino del che è sostanzialmente un'analisi fem dei membri del telaio questo qua ifa ok quindi direttamente questo qua ok nel taglio allora mi chiedono se durante il taglio di tubulare rispetto a una superficie curva si creano interferenze che verrebbero segnalate facendo un'analisi certo l'analisi la potete fare sempre sotto analizza eventualmente vi prendete le interferenze quindi come tutti gli ambienti di inventor per dire inventor non vi segnala subito che c'è un'interferenza quindi anche quando posizionate due elementi uno dentro l'altro non vi da nessun errore quando fate l'interferenza mi raccomando selezionate in questo caso le parti quindi mi raccomando scegliete non i componenti ma le parti eventualmente poi andate a prendere solo i tubolari che vi danno potenzialmente fastidio ok quindi tutti gli ispezioni come vengono salvati vengono salvati come dei file IPT quindi sostanzialmente potete anche fare tasto destro apri e visualizzate questo vostro oggetto ok che nasce da un membro del telaio ma voi siete liberi poi eventualmente di farci delle delle lavorazioni in questo caso le potete fare anche in aggiunta ma tenete conto che state modificando solo questo membro del telaio quindi attenzione che se poi questo membro qua è riutilizzato più volte nell'assieme viene modificato tutte tutte le altre ricorrenze ecco ok finiscono all'interno di una cartella questi file non finiscono nel centro contenuti no finiscono in una cartella che è allo stesso livello più o meno di dove avete l'assieme quindi dove salvate questo assieme qua di fianco a questo vi fa una cartellina con lo stesso nome e dentro lì ci sono tutti i vostri file ok quindi li gestite in questo modo ok credo forse si possa anche personalizzare questa cosa a livello volt però non andrebbe un po' approfondita e aspettate è vero ci sono tantissime domande questo è un buon segnale perché comunque magari è stato interessante ecco l'argomento allora questa l'abbiamo fatta questa l'abbiamo fatta taglio di tubolari curvi l'abbiamo fatta dove vengono salvati come si utilizza nell'ambito di una struttura imbullonata allora una struttura imbullonata dovresti vederla un po' bene nel senso come allora secondo me queste strutture vanno molto bene per le strutture saldate ok chiaramente poi qua se ci devi fare un un lamierino dove ci vuoi fare le tue i tuoi fori imbullonare uno con l'altro semplicemente ci aggiungi una piccola L un lamierino così ad esempio e ci fai poi i tuoi fori e poi tranquillamente puoi farci la tua connessione bullonata quindi questi file sono tutti i file che potete trattare tranquillamente poi come come IPT barra IAM quindi assolutamente siano liberi di se qua ci avete fatto un foro tranquillamente ci potete mettere una una connessione bullonata o posizionarci una vite se dovete metterci solo una vite quindi assolutamente una volta che avete fatto facciamo un esempio proprio ci facciamo un foro qua ok un foro filettato da da 10 lo mettiamo qua io poi vado sotto posizione da centro contenuti vado a prendere questa vite qua faccio sentire questo e lui mi metterà una M10 ok quindi niente di niente di strano ok quindi una volta che l'avete fatto chiaramente poi ho fatto un foro passante quindi mi ha bucato anche dietro però fate questo tipo di cose ok ok allora si comporta bene con la parametrizzazione delle quote sì ecco è una cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere anche perché siamo lunghissimi coi tempi quindi mi sa che adesso dobbiamo dobbiamo chiudere e vi faccio vedere ecco solo quest'ultima cosa ecco allora mi dicevano come funzionano con la parametrizzazione ecco togliamo questo foro qua vado a modificare il mio scheletro cosa succede doppio clic lo faccio anche in un altro cioè in un'altra istanza quindi apro vado qua dentro nei miei parametri ad esempio il mio lato invece che 600 gli metto non lo so 650 fatto questo mi si aggiorna subito lo salvo vado qua qua mi chiede un aggiornamento lo aggiorno lui si aggiorna con le sue varie modifiche apro la mia parte cioè il mio sì scusate la mia tavola si aggiorna tutto si cambiano le quantità unità quindi tutto si aggiorna in live ok quindi chiaramente occhio se modificando il vostro telaio magari invece che cambiare una dimensione andate a togliere degli spigoli dove magari ci avete appoggiato ecco gli elementi quindi lì sicuramente non non gli piace quindi però come dimensioni assolutamente andate andate tranquilli ok c'è ancora qualche altra domanda però siamo davvero lunghissimi allora per imbulonare di solito si salda una piastra a uno dei due membri poi però come faccio a fare il saldato del membro con la piastra saldata da mettere in tavola ok non l'ho ben capita questa Luca nel senso tieni conto che poi tu eventualmente puoi posizionare questo se hai bisogno di farti io adesso te l'ho fatto come un telaio unico chiaramente potresti farti due telai diversi eventualmente ci attacchi una una piastra e poi consideri l'altra parte del telaio adesso non ho ben capito il la tua questione ecco quindi tenete conto ecco adesso era giusto un'idea quindi poi potete sempre ecco approfondire ecco vi dicevo appunto facciamo dei corsi appositi e tutto quanto quindi diciamo l'idea appunto di darvi un un assaggio ecco di questo di questo ambiente qua quindi sappiate che si possono fare ecco queste cose con Inventor ecco in maniera davvero rapida quindi adesso ci siamo messi qua abbiamo fatto un giochino divertente qua così però chiaramente si fanno anche cose un pochettino più più complicate e con questa vi saluto perché il tempo a nostra disposizione è finito e magari ecco vi invito se eventualmente vi vengono altre curiosità così me stefania eventualmente ci potete scrivere ecco tutto quanto eventualmente in assistenza se avete qualche dubbio puntuale però se avete voglia di approfondire vi indirizzerei più magari ad un corso ecco quindi spero sia stata di vostro gradimento vi ringrazio per la partecipazione e anche per il sacco di domande che mi avete fatto vuol dire che mi ha suscitato sicuramente ha suscitato interesse e vi saluto e alla prossima arrivederci grazie a tutti grazie a tutti